Il rompe inaspettatamente sulla scena politica italiana è il caso Ustica, con una intervista rilasciata dall'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato che svelerebbe cosa è accaduto il 27 giugno del 1980 quando sopra i cieli di Ustica morirono 81 persone che dopo 43 anni ancora non hanno avuto giustizia tra depistaggi segreti di Stato, rivelazioni sempre in metà. Ora invece l'ex uomo di fiducia di Bettino Craxi all'epoca dei fatti presidenza del Consiglio ritiene che si è passato il tempo in cui la verità risultava scomoda ed era meglio lasciarla sepolta. Parole che fanno discutere insieme alla richiesta che si faccia finalmente chiarezza dopo decenni di confusione ed ambiguità, richiesta che arriva da più parti e che inevitabilmente arriva sul tavolo del Copasira. Questa la reazione a caldo su nostra precisa domanda del vicepresidente Giovanni Donzelli. Come Copasir rifletterà su quanto Amato ha dichiarato oggi? Quello che facciamo al Copasir è coperto dal segreto e non mi permetterei mai di rivelarlo. Amato ha detto delle cose importanti, noi da sempre chiediamo la desecretazione di tutti gli atti di tutte le pagine non chiare di quegli anni. Amato oggi dice delle cose in passato, ha detto l'esatto opposto, ci chiediamo perché oggi dica queste cose, lo spiegherà per bene, spiegherà anche perché non l'ha detta in passato, ha detto cose diverse in passato. Ma ben venga, quando le persone parlano è una buona notizia e quando ciascuno dice la sua verità è una buona notizia, il problema è quando le persone stanno in silenzio.